allora volevo fare quando ero un bimbo sognavo di essere di diventare un archeologo adesso frequento questo posto meraviglioso che è il teatro faccio il regista e ora da poco faccio il direttore artistico di un meraviglioso teatro che è il teatro goldoni di liborno mi piace molto mi piace molto perché amo cantanti amo la musica mogli attori quindi mi piace frequentare sta questa gente matta è il solito rapporto abbastanza d'amore e odio io ho lavorato tanto i primi anni della mia vita qui a liborno poi ero sdegnato la città non mi meritava sono scappato è stata la mia fortuna perché poi ho cominciato a lavorare professionalmente fuori però poi il richiamo delle onde è tale che insomma sono tornato felicemente infatti sono onorato di essere dove sono la città liborno nel futuro beh me la immagino una città bella bella accogliente curiosa perché mi piace citare quella la famosa frase di claudio abbado nel quale ha avuto l'onore di lavorare poco ma proficuamente che diceva appunto che la bellezza salverà il mondo e lo farà una persona per volta questo diceva siccome la cultura non si ferma e non si deve fermare seguite l'iv che ci mette la faccia